Quest'anno sono 12 rioni che partecipano, fino all'anno scorso erano 7, c'è una grossa partecipazione, voglia di contribuire a questo grande evento sportivo Marinaro. La tradizione che si ripresenta ogni anno puntualmente, ormai da 61 anni, è un momento particolare per gli appassionati di canottaggio a sedile fisso e non solo canottaggio perché poi c'è una parte del palio che si svolgerà a terra con una vera e propria arrampicata. Quindi un momento importante per la città dove la cittadinanza è invitata a partecipare per vedere un grande spettacolo. Paio che è sempre più genovese, tra l'altro la presenza dell'associazione accompagna da tanti anni con la cronaca in genovese anche della manifestazione e testimonia proprio questo attaccamento. Sì, ringrazio l'associazione perché collabora effettivamente alla riuscita di questa manifestazione che vuole in qualche maniera far crescere il mondo marinare all'interno della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie.